Benvenuta a Ludovica Gobbi, responsabile analisi studi mercati finanziari di Banca Mediolanum, lei è una delle relatrici di un panel di questo evento così importante che è Women for Impact e che si tiene a novembre da 17 al 19 a Bologna, il panel si intitola Tra ragione e sentimento, cioè la finanza è decisamente un mondo per donne, un titolo particolare anche se stando un po' ai dati, agli stereotipi che conosciamo, non sembrerebbe proprio che la finanza sia un affare per donne, qual è la situazione? Beh sì, intanto buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità, grazie dell'invito. Allora, devo dire che ancora siamo in minoranza, noi donne nel mondo della finanza, questo lo dicono i numeri, è abbastanza chiaro, insomma se guardiamo alle ultime analisi, agli ultimi dati vediamo che soprattutto nei ruoli poi chiave, nei ruoli di rilievo, di leadership siamo ancora su livelli molto bassi, all'incirca un 10%, ecco forse fatichiamo ad arrivare al 10% se guardiamo alle posizioni per esempio di gestori di fondi di investimento, responsabili di investimenti, ecco figure di questo tipo sicuramente sono ancora a pannaggio per la maggior parte degli uomini. Anche per quanto riguarda le consulenti finanziarie, gli ultimi dati ci parlano di circa un 20% di consulenti finanziarie donne, quindi insomma stiamo sicuramente crescendo, è un trend positivo ma siamo ancora, come dire, all'inizio, ecco c'è tanta strada da fare sicuramente. Certo, lei ha deciso di partecipare a Women for Impact perché? Che è un evento dedicato alla valorizzazione insomma delle donne nel mondo imprenditoriale. Assolutamente, il mio approccio a Women for Impact è stato particolare, l'ho conosciuto tramite un percorso di mentorship che ho fatto l'anno scorso, la mia mentor che è una persona straordinaria che mi ha insegnato, ispirato veramente tantissimo, Paola Iannone, ha partecipato all'edizione dell'anno scorso, quindi tramite lei sono venuta a conoscenza dell'evento e ho, come dire, tratto anche un po' di coraggio nel, anch'io, approcciare questa esperienza, quindi poi quando con Eleonora Rocca che è l'organizzatrice ci siamo sentite insomma diciamo che è stata subito per entrambe un qualcosa di molto interessante. Io sono veramente contenta, devo dire, di partecipare a questo evento, è una cosa per me inusuale, insomma sono abituata a tavoli su cui gli argomenti sono molto più tecnici, però veramente mi fa piacere perché credo che sia un'occasione importante per proprio continuare su questa strada di aumentare la consapevolezza di quanto le donne possono contribuire in tanti ambienti, compreso appunto il mondo della finanza. Per me, ecco, secondo me Women for Impact ha probabilmente un triplice scopo, almeno questo è quello che penso io, il primo è quello di formare, se vogliamo quindi dare proprio delle informazioni utili, degli spunti quindi a crescere proprio bagaglio di competenze, sicuramente sarà così perché ascoltando tantissime esperienze di donne e non solo questo sicuramente sarà un elemento importante. forse però il meno importante, perché gli altri due a mio avviso lo sono ancora di più, ossia quello di ispirare e come dicevo prima io stessa sono stata ispirata dal percorso che ho fatto di mentorship e sicuramente sentire le esperienze di appunto tante altre donne, tante altre professionisti aiuta a ampliare le proprie vedute, ad alimentare la passione verso quello che si fa, ma anche a spingere le donne a darsi degli obiettivi ambiziosi, a sapere di poterli perseguire, quindi ispirare è un altro elemento importante e da ultimo anche quello di connettere, perché è proprio la capacità di venire a contatto, quindi magari ampliare il proprio network e conoscere nuove persone, è qualcosa su cui peraltro noi donne a volte siamo un po' più carenti rispetto agli uomini, quindi altra finalità molto molto importante in questo evento a mio avviso. Ecco in una battuta finale alle ragazze, proprio parlando di ispirazione, che potrebbero avere l'idea di avvicinarsi al mondo della finanza ma temono di non essere all'altezza o che la materia sia troppo difficile o che sia inconciliabile anche con quella che può essere la vita privata, un consiglio in breve? Allora sì, noi tendiamo a pensare alla finanza come ad un mondo prevalentemente maschile, un po' come accade per le materie STEM, anche la finanza ha una storia simile, l'abbiamo detto, i numeri ci dicono che finora è stato sicuramente un mondo più maschile, però ovviamente questo è per lo più uno stereotipo, con questo non voglio dire che non ci sia la necessità di padroneggiare materie tecniche o di avere comunque una propensione da questo punto di vista, ma sicuramente questo è qualcosa che le donne possono sicuramente fare, quindi non è vero che alle donne le materie tecniche non piacciono in assoluto o che non sono brave, anzi siamo a volte molto più brave, quindi le competenze tecniche sicuramente sono necessarie, ma non mancano e in più secondo me, ecco questo forse è un aspetto che risulta più difficile, meno chiaro, ma è altrettanto importante, ecco la finanza non è solo un mondo fatto di freddi numeri, ma è molto di più e potenzialmente molto di più, non solo perché ci sono vari campi all'interno anche del mondo finanziario, ma anche perché proprio le donne per la loro capacità a volte innata che viene da caratteristiche un po' personali come magari la scuola, la capacità di ascolto, la tendenza alla cura, la tendenza ad avere un approccio comunque anche pragmatico, multitasking e un po' più conservativo a volte rispetto a quello degli uomini, ecco le donne per tutti questi motivi si è visto anche da molte ricerche che sono capaci di eccellere, a volte di fare anche meglio degli uomini, soprattutto come dicevo in certi ambiti, come può essere quello della consulenza finanziaria, ecco in generale per me, lo vedo anche nel mio lavoro, io mi occupo più di ricerca, ci vuole anche tanta creatività, quindi la capacità di portare la finanza un po' ad una platea più allargata, si parla tanto anche di educazione finanziaria, credo che anche da questo punto di vista le donne possano dare un grandissimo contributo. E grazie anche per questi consigli a Ludovica Gobi, grazie. Grazie.